ha appena detto sulle memorie familiari, sul racconto, a un certo punto ha usato questa parola credo sia particolarmente coerente con quello che ci sta per dire Emilia. La professoressa Marzano diceva riapriamo i cassetti in cui sono custodite le nostre storie perché come recita in home page la fondazione dell'archivio diaristico nazionale nessuna storia è piccola. L'archivio di Pieve di Santo Stefano lo conoscete probabilmente tutti questo è il suo sito, qui si raccolgono all'interno di quello che è il museo, c'è un luogo fisico all'interno del quale si raccolgono, vengono letti, vengono rimessi in circolo tutta una serie di diari racconti privati che si intrecciano appunto con la grande storia. All'interno del sito è possibile anche leggere alcuni brani dei diari, c'è un premio, insomma chi ha una storia nel cassetto di un padre, di una madre, di un nonno, di una nonna si può rivolgere qui, chi ha desiderio di leggere storie del passato sempre qui trova delle risposte. Alla luce di quello che ci ha detto Emilia, alla luce della conversazione che stiamo portando avanti professoressa, vorremmo tentare...